Sharia Ibn Rashda Muhammad 1126-1198 Filosofo e scienziato arabo-spagnolo, molto noto nell'occidente latino, con il nome di Averroeh. Studiò diritto e medicina, filosofia greca e astronomia, e quindi entrò nella corte di Almohadi a Marrakesh. Verso il 1195, venne accusato di eresia e infedeltà e per ragioni politiche che spingevano il califo a favorire gli ortodossi, fu esiliato e fu vietato lo studio della sua filosofia. Poco prima della morte, venne riabilitato e accolto nuovamente a corte. Averroeh ritiene la ricerca razionale dei filosofi, un'opera non vincolante, come la fede e l'obbedienza alla legge Sharia. Commento. Nel corso della storia, molte menti eccelse si sono arrese all'infinitezza della coscienza. a presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto. A presto.